allora action dal vostro morisano buongiorno amici come va tutto bene adesso faccio vedere mi trovo look at that guardate che bello sentite il rumore del gallo what the hell se vi addondo sono alzato stamattina bellissimo ha fatto 300 euro voi direte niente di che 300 in profitto dovate grazie a la maggior parte con fori e alcuni utenti hanno fatto di solo ieri per seguito i miei consigli veramente sono poi anche in grecia che era un paesino della costa rica per comprare una merda macchina perché l'unico posto dove hanno meno chilometri il meno che non vedevole la macchina a meno chilometri sono 70 mila chilometri anyway comunque ho venduto tutto stranati quasi tutto del portafoglio a chiuso e contanti e o più o meno 10 mila euro pronti appena fa qualche tip che sicuramente appunto rosso i tiri oppure su bitcoin oppure su forno bello se gli essi la mattina col rumore degli uccelli ragazze era maraviglia si è scritta qualche ragazzo iscrivetevi a teatro a capparella è un saluto da vostro morisano bai bai